le guerre sannitiche benvenuti in questo nuovo video in cui tratteremo le guerre sannitiche sono tre guerre che vengono impegnate Roma e si svolgono tra il 343 e il 291 a.C. di mezzo c'è anche la guerra latina parliamo un po' dei prodromi qual è la situazione nella penisola italica intorno al 343 a.C. i sanniti sono un popolo stanziato tra l'Abruzzo e il Molise come i romani i sanniti puntano a conquistare la Campania perché è una regione molto fertile la zona della Campania ovviamente non c'erano le regioni per come le conosciamo adesso e i popoli sia romani che i sanniti si temevano reciprocamente prova ne è che qualche dieci anni prima nel 354 a.C. avevano deciso di allearsi l'occasione per la guerra, quindi il caso Sbelli fu dato ai romani da un'ambasciata proveniente da Capua gli ambasciatori di Capua si posero sotto la protezione di Roma e consegnarono le città al Senato a patto che i romani avessero fermato i sanniti che intanto andavano allargando i loro confini le tre guerre sannitiche furono la prima grande sfida in cui si dovette cimentare la Repubblica non nata nel 509 di cui nei video precedenti abbiamo trattato le vicende la prima guerra sannitica si apre quindi nel 343 quando i romani interessati alla campagna colse l'occasione offerta dagli ambasciatori di Capua e dichiarano guerra ai sanniti la prima battaglia viene nel 343 quando i generali Marco Valerio Corvo e Aulo Cornelio Cosso attaccarono combinati l'esercito dei sanniti a Monte Gauro Corvo ottenne la vittoria mentre Cosso fu avviutato da Publio dei Ciamure la battaglia campale avvenne a Sessuela nel 341 a.C. che fa registrare un'altra vittoria per l'esercito romano di Corvo diciamo che ora qui la datazione è un po' problematica perché sicuramente la guerra avviene in questi anni la battaglia di Sessuela potrebbe avvenire anche nel 342-43 questo lo richiamiamo dalla lettura delle fonti di Tolivio ma la cosa più problematica è che attualmente è messo in discussione la datazione della guerra latina secondo alcune istituzioni la guerra latina verrebbe prima della prima guerra sannitica fino a che non ci sono conferme definitive e noi utilizziamo la datazione standard e infatti la guerra latina che diciamo va dal 340 o andrebbe dal 340-338 a.C. è la causa per la quale la prima guerra sannitica si interruppe anzitempo i romani infatti dovette affrontare una nuova guerra questa volta contro la lega latina e Publio dei Ciumure sconfigge e si sacrifica nel 340 a.C. nella battaglia del Vesuvio la sconfitta finale della lega latina avviene nel 339 con la battaglia di Trifano mentre la guerra vera e propria si conclude l'anno successivo quindi è appena un biegno ne approfittiamo per parlare di questo sacrificio che nella cultura latina corrisponde alla devozio cioè l'immolarsi per la vittoria devozio infatti significa letteralmente fare voto ed indica la decisione in generale di sacrificarsi alle idee in modo da tenere il loro favore in battaglia quindi questo fa Publio dei Ciumure e questo farà in realtà anche il suo omonimo figlio ma lo vedremo successivamente seconda guerra sannitica diciamo che la seconda guerra sannitica è quella più lunga va dal 327 al 304 è anche la più famosa perché come vedremo è in essa il contesto per l'episodio per la umiliante sconfitta nelle battaglie delle Forche Caudine o meglio quasi nel massacro delle Forche Caudine quindi l'occasione per la terza tra le tre guerre sannitiche è legata alla fondazione della colonia di Fregelle in territorio sannitico fondazione romana i sanniti avevano inoltre formato una nuova lega in questa lega c'erano gli etruschi gli umbri, locani e i sabini Roma dal canto suo è attraversata da disordini interni legati alla sollevazione della plebe non dimentichiamo questo il conflitto si apre nel 327 per sette anni i sanniti hanno la meglio fino al 320 e di questa serie di battaglie come prima avevamo anticipato la più importante è quella nella gola delle Forche Caudine del 321 a.C. cosa accade? perché i romani vengono umiliati? beh sostanzialmente accade che l'esercizio romano che inseguiva quello sannitico chiede o almeno così si racconta chiede a due sanniti travestiti da pastori o pellegrini dove fosse diretto l'esercito sannita viene quindi indirizzato l'esercito romano verso una gola molto stretta e viene circondato a quel punto l'esercito romano oltre a essere sconfitto fu umiliato e gli vennero sottratte le armi e i soldati furono costretti a sfidare tra le lance dei sanniti subendo sputi e insulti diciamo l'epoca fu psicologicamente molto gravoso questo episodio oltre che dal punto di vista bellico tant'è che ancora oggi si usa l'espressione passare per le forche caudine per indicare un'umiliazione o il dover superare una durissima prova che è esattamente quello che è successo all'esercito romano nel 321 a.C. contro i sanniti ma andando avanti i sanniti chiesero a Roma delle colonie ma il senato consapevole dell'importanza economica e sociale di queste vendicò l'umiliazione del forche caudine recuperando le armi e sottoponendo 7000 sanniti allo stesso trattamento che hanno ricevuto i romani alla fine poi diciamo verso sul fine della guerra nel 304 i romani riescono a avere la meglio si impongono e cingono d'assedio e conquistano Boviano capitale sannitica portando la guerra a conclusione non è finita ancora qui vi è poi la terza guerra sannitica che inizia nel 298 a.C. in questa data i sanniti avevano rinnovato l'alleanza antiromana con gli altri popoli della penisola italica in particolare con gli etruschi e gli umbri a questa guerra partecipano anche i galli che avevano diciamo saccheggiato Romano nel secolo precedente i galli senoni e di questa guerra che dura 7 anni una delle battaglie più importanti fu la battaglia di Sentino del 295 a.C. all'inizio della battaglia favorì i sanniti aiutati dai carri coperti pieni di terciari dei galli tuttavia anche in questa occasione la situazione fu ribaltata dal console Publio dei Cionmure chi è è l'omonimo padre anche lui diciamo esegue questa devozzo che poi non si sa bene quando effettivamente abbiamo pensato però sta di fatto che i romani riescono ad ottenere la vittoria il resto della guerra fu in discesa per i romani che conquistarono nuovamente Boviano che ricordiamo è la capitale sannitica e sconfiggono definitivamente i sanniti nel 291 a.C. e diciamo che questo è tutto per l'estrema sintesi per le guerre sannitiche come al solito nel link nella descrizione del video ci sarà il link per l'articolo relativo nel blog e prima o poi ci sarà anche una mappa interattiva dove saranno mostrati i luoghi dei vari conflitti quindi il video non è diciamo non tutti i contenuti si trovano nel video ma ovviamente questo vale per qualsiasi video anche nel blog quindi l'insieme di queste due cose dovrebbe dare un'immagine abbastanza completa arrivederci quindi alla prossima lezione a